Bentornati, allora dopo il video sugli eccessi, stravaganze e crimini dei compositori parte 1 mi avete dato tutta una serie di suggerimenti, ho deciso ovviamente di fare una parte 2 allora vediamo alcune stravaganze, alcuni eccessi e anche qualche crimine dei compositori sempre dell'ambito classico, dopodiché potremmo anche valutare un giorno di parlarne anche di altri generi perché insomma nella musica pop, nel jazz, ne hanno fatte di cose interessanti anche stavolta partiamo dalle cose più leggere per andare verso quelle più pesanti a proposito di dipendenze alimentari, Giuseppe Verdi era completamente dipendente dal caffè ne beveva quantità industriali, Rossini era dipendente non solo dal caffè, non solo dal bianco in generale ma soprattutto dal cibo insomma, era veramente un golosone ecco, e se il peccato di Gola porta all'inferno, il buon Rossini non è assolutamente scampato l'altra volta mi ha visto di tanti compositori che avevano qualche problema col gomito alzato abbiamo già visto Sibelius in particolare l'altra volta ma anche Mozart, anche Handel e anche Brahms erano bevitori di tutto rispetto però ovviamente essere bevitori di tutto rispetto è una cosa e avere problemi di alcolismo è un'altra e tra questi hanno avuto storici e conclamati problemi di alcolismo Michael Haydn, Mussowski, Max Rager, uno dei compositori più interessanti della sua generazione magari un giorno potremmo anche farci un video e in particolare Alexander Glasunov, un compositore ed editor-orchestra molto importante nella scuola russa che aveva veramente, beveva vodka come acqua fresca Shostakovich diceva che Glasunov durante la lezione in conservatorio facesse fuori una bottiglia di vodka e addirittura questa cosa ha portato alla, quella che secondo me è leggenda metropolitana che lui avesse addirittura una cannuccia di modo che anche da seduto senza dover per forza fare il gesto così con una cannuccia per poter bere in interrotta medio io personalmente non credo che questa cosa sia vera però come sempre da un fatto storico vero quindi poi spesso nascono leggende, esagerazioni e magari hai fatto così e dicono che hai fatto così ma questo qua c'era, se non c'è da niente non nasce niente su Glasunov c'è anche un episodio interessante perché lui fu il direttore orchestra della prima esecuzione della Sinfonia numero 1 di Rachmaninoff l'esecuzione fu un disastro, la Sinfonia non fu per niente apprezzata però da tanti, e resterà poi ineseguita per un lungo numero di anni dopo appunto il flop del debutto però in tanti attribuiscono questa cattiva esecuzione questo non apprezzamento da parte del pubblico della prima Sinfonia di Shostakovich al fatto che Glasunov fosse completamente ubriaco e qualcuno dice anche che non avessero studiato abbastanza quindi evidentemente l'esecuzione oltre ad essere esteticamente brutta probabilmente fu molto carente anche dal punto di vista proprio delle note e di quello che veniva eseguito i compositori spesso sono persone abbastanza estrose abbastanza anche stravaganti in certi casi qualcuno ha avuto anche a che fare con la follia anche se sapete bene, come potete immaginare che nell'ottocento il termine follia che già oggi oggi probabilmente non ha più un senso o non ha più sicuramente lo stesso senso e magari nei secoli scorsi si finiva in manicomio anche solo per qualche stravaganza del carattere però insomma Schumann insomma è noto per appunto aver avuto problemi di quella che ai tempi veniva definita follia probabilmente in realtà erano le conseguenze della sifilide che lui aveva contratto e ancora più probabilmente anche la morte legata al fatto che per curare la sifilide si usava il mercurio e il mercurio ai tempi si ignorava ma è abbastanza velenoso e quindi alla lunga ha portato alla morte non solo di diversi compositori ma di tante persone che sono state curate con il mercurio ma la stravaganza di cui vi voglio raccontare non è tanto questo aspetto legato alla presunta follia di Schumann ma il fatto che Schumann nasce come pianista cioè come esecutore, come concertista lui voleva fare il pianista, non voleva fare il compositore ed era un eccellente pianista però era talmente ossessionato dal pianoforte e dalla tecnica di diventare sempre più bravo che inventò una specie di marchigegno per allargargli la mano ok? Praticamente immaginate una specie di trespolo per consentirgli di allargargli le dita più possibile in modo da avere un'apertura di mano maggiore questa cosa ovviamente nell'arco di pochissimo tempo gli procurò delle lesioni permanenti alle dita non è ancora chiaro storicamente se avesse perso l'uso del medio o dell'anulare della mano destra ma insomma, medio o anulare non cambia granché praticamente diventò inabile a suonare quindi il suo desiderio di diventare un concertista ovviamente fu stroncato per certi versi così fu obbligato a dedicarsi alla composizione e un paio di cose carine ce l'ha lasciata il ragazzo altri problemi di, diciamo così, follia conclamata o no lì è Baby Z ma questo lo accenno solo perché sto pensando di fare un video opposto su lui però insomma, fu un altro che ebbe grossi problemi di depressione dovuti anche, insomma, agli insuccessi delle sue opere e Baby Z morirà senza aver visto il vero trionfo di Carmen quindi, Carmen meglio insomma, quindi se vogliamo anche una delle tante beffe del destino potrebbe essere il titolo di un nuovo video le beffe del destino insomma, tutti quei compositori che sono morti prima di vedere la loro musica riconosciuta tra le cattive abitudini di tanti compositori c'era quello di indebitarsi fino al collo Wagner era un noto debitore e un noto malpagatore si aggiunga al fatto che nella fase della sua vita insomma, che comunque durò parecchi anni in cui insomma aveva serie difficoltà economiche aveva comunque sempre le mani bucate spendeva e spandeva ben oltre quello che avrebbe dovuto essere il suo tenore di vita e chissà come mai poi accumulava debiti e comincia subito a vent'anni ok, vero che i vent'anni dell'ottocento non sono i vent'anni di oggi sono vent'anni in ottocento uno era già un uomo spesso sposato e con figli insomma, però insomma, sempre vent'anni aveva quando era al teatro di Würzburg fu il primo posto dove, ripeto, già a vent'anni fu inseguito dai debitori poi c'è una storia che rimase anche imbischiato nel fallimento del teatro alcuni, si dice, alcuni debiti del teatro furono accollati a lui insomma, però sia come sia era pieno di debiti tant'è vero che dovette fuggire a Riga dove stesso discorso si riempì di debiti e poi da lì dovette andare a Parigi, a Londra sempre perennemente in seguito dai creditori un altro compositore in seguito dai debitori e su cui veramente bisognerebbe fare un video post è stato Paganini che oltre appunto ad avere creditori sparsi in tutta Europa ebbe anche una serie di guai giudiziari per bancarotta ma ebbe anche dei guai giudiziari perché sedusse e poi sposò in realtà una ragazza che però i tempi era minorenne insomma, quindi ebbe lunghe vicissitudini giudiziari che poi magari potremmo approfondire nel corso di un video apposta la particolarità che vi voglio però raccontare di Paganini tra le mille che si potrebbero dire è questa qua lui, il violino è fatto da quattro corde la più bassa è il Sol e poi il Re, il La e il Mi lui aveva l'abitudine di seghettare le corde più acute cioè il Re, il La e il Mi così facendo, quindi praticamente le limava, le indeboliva così facendo, siccome già probabilmente succederebbe comunque in più lui era molto energico, molto passionato nelle sue esecuzioni queste corde che erano state da lui limate cedevano e si rompevano e lui continuava a suonare poi ne cedeva un'altra, poi ne cedeva un'altra finché non restava solo il solcher l'unica che non era stata come dire manomessa e lui continuava a suonare tutto il concerto solo sulla corda di Sol che è una dimostrazione evidentemente di bravura incredibile insomma per chi capisce di cosa stiamo parlando capite che suonare tutto un pezzo solo sulla corda più bassa insomma richiede delle abilità decisamente fuori al comune e suona via Paganini le abilità fuori al comune ecco comunque faceva questo coup de théâtre in cui sembrava che le corde si rompessero a causa della sua energia e della sua irruenza e in realtà le corde erano state appunto sabotate diciamo così e lui faceva questa cosa per stupire il pubblico e ci usciva regolarmente vi assicuro che stai stupito anch'io anche sapendolo prima Tartini, compositore famoso per il trillo del diavolo ebbe una vita soprattutto nella prima parte molto particolare innanzitutto può sembrare strano ma benché fosse un virtuoso di violino non lo studiò tantissimi i primi anni di vita ma è vero che a 16 anni evidentemente il sistema era un po' diverso il sistema scolastico era un po' diverso ad oggi fu iscritto a giurisprudenza perché i suoi prima volevano che entrassi in convento poi non riuscirono a fare tale in convento loro lo iscrissero a giurisprudenza e per lui studiare, insomma era evidentemente un uomo molto intelligente studiare era estremamente facile era talmente facile che appunto lui perfezionò lo studio del violino ma soprattutto perfezionò la scherma arte nella quale era molto bravo, molto capace e essendo giovane e essendo anche molto fumantino si impegnò in tantissimi duelli e li vinse quasi tutti dopodiché a 18 anni cosa successe? si innamorò di una sua allieva nipote di un cardinale i cardinali ai tempi erano figure molto non solo molto potenti ma spesso anche molto irascibili quando non addirittura vendicative per cui insomma cosa successe? che lui si innamorò di questa sua allieva aveva 18 anni la sposò in segreto ma nonostante questo matrimonio riparatore tipo fuitina siciliana la cosa fu presa malissimo dalla famiglia e anche dal cardinale la ragazza benché sposata fu chiusa in un convento lui fu costretto a scappare perché in seguito dagli scagnozzi del cardinale andò ad Assisi dove per due anni stetti in un convento ad Assisi e in quei due anni cominciò veramente a studiare il violino e in quei due anni anche cambiò completamente il proprio carattere quindi da quel fumantino e irascibili iracondo che era in gioventù divenne in realtà una persona esattamente opposta calma, tranquilla, pacifica ma pur sempre in fuga solo che una volta dopo oltre due anni che viveva in questo convento durante una messa lui stava suonando il violino insieme al coro dietro un paravento come si faceva detto un telo come si faceva spesso dietro l'altare se non che un colpo di vento tirò via questa copertura questo lenzuolo che separava l'altare dal retroaltale e lui fu riconosciuto lui ovviamente fu riconosciuto da uno che conosceva il cardinale che sapeva perfettamente qual era l'animosità che c'era lui ovviamente si vide perso in realtà il cardinale alla fine fine fece come dire buon uso dell'insegnamento cristiano di perdonare insomma lo perdonò e la cosa finì abbastanza tra luce vino lui poi si ricongiunse con la moglie e visse insomma tutto il resto della sua vita tutto sommato senza particolari particolari scossoni alziamo il livello Frantisek Kochvar compositore cieco che magari la maggior parte di voi non conosce ma che ha avuto una certa notorietà con un brano che si chiamava La battaglia di Praga morì fra le braccia di quella che oggi si chiamerebbe una sex worker la cosa di per sé non sarà certo stato il primo e non sarà sicuramente neanche l'ultimo il punto su fu furono le condizioni grazie alle quali passò a miglior vita perché praticamente in un gioco erotico lui aveva una corda legata al collo sembra legata a una maniglia insomma tra i giochi Stadomaso su cui non sono particolamente ferrato ma insomma c'è questa pratica del soffocamento se non che questa pratica del soffocamento andò evidentemente oltre i limiti voluti e il povero Kochvar ci rimise la pelle la signorina fu anche incriminata per omicidio ma poi incredibilmente in tempi in cui insomma le prove il DNA le videocamere non c'erano ecco diciamo così bastava fondamentalmente le dichiarazioni e un vaghissimo quadro probatorio poi alla fine fu assolto e quindi probabilmente insomma fu nient'altro che un gioco erotico finito male con un ux ricidio abbiamo chiuso la prima parte con un ux ricidio chiudiamo la seconda Bartolomeo Tromboncino un compositore vissuto tra la fine del 400 e inizio del 500 famoso per le sue frottole le frottole non sono come dire non hanno significato di oggi di bugie insomma mi racconti frottole era un componimento tipico dell'età rinascimentale e pre-rinascimentale anche lui come accadde il buon Gesualdo da Venosa successe di sorprendere la moglie con l'amante però al contrario Gesualdo da Venosa che sapeva e aveva tutto se vi ricordate organizzato una finta partenza proprio per sorprendere gli amanti nel suo caso fu assolutamente casuale non rispettò la prima regola che serve a far durare un matrimonio cioè avvisare sempre prima di tornare a casa all'improvviso non rispettò questa regola uccise la moglie dovete scappare da Mantua dove lavorava a servizio di Gonzaga ma dopo un paio d'anni fu graziato perché insomma si ritenne che ci fosse una giusta causa bene scrivete nei commenti altri episodi che vi vengono in mente o se avete piacere che trattiamo magari un compositore sotto un particolare aspetto e insomma se dovessi vedere che c'è nel materiale vi accontenterò con piacere lasciate un like se il video vi è piaciuto però se non l'avete ancora fatto è arrivato veramente il momento di iscrivervi al canale perché sennò cosa continuo a dire iscrivete iscrivetevi se non vi iscrivete ci vediamo alla prossima